È un risultato di cui siamo molto orgogliosi perché dimostra un'attività importante fatta dal CUS, dal Presidente Micali e da tutto lo staff e come diceva giustamente lei, lo sport è proprio una giornata come oggi, la ricordo dalle strage di Via D'Amelio può essere un modo per dare un indirizzo diverso ai nostri giovani che si impegnano in qualcosa di sano e di importante di continuare con questo impegno, con questo entusiasmo nel raggiungere gli obiettivi sportivi perché queste regole poi servono anche nella vita per raggiungere gli obiettivi più importanti